Restate in Sisi, rivida il benvenuto a Palermo in un appartamento che è un vero investimento perché è un bijou. Siamo innanzitutto in una zona molto carina perché è zona uditore in un vicolo particolare per cui ripara tutto anche dal rumore che ci potrebbe essere nella vera città però nell'asse di congiunzione fra Viale Michelangelo e Viale Leonardo da Vinci. Questo significa che avete veramente due arterie per poter andare in centro città. La casa che vi mostro è più o meno di 60 metri quadri, molto comoda, perfettamente rinnovata e perfettamente abitabile quindi pronta per starci dentro assolutamente. Piccola ma comoda perché siamo nell'ordine di 60 metri quadri però ripeto è un perfetto investimento a cominciare dal suo prezzo di base e dal fatto che si può sfruttare anche come ricezione per cui questa è una cosa molto molto bella. Allora entriamo e vediamo la palazzina di soli due piani, una palazzina in questo veicolo molto molto tranquillo, siamo al piano terra, esploriamo questo piano terra e vediamo che cosa abbiamo qui. Cominciamo subito da questa cucina soggiorno molto carina, qui c'è la predisposizione proprio per la cucina denotata da queste mattonelle, da questa presa e dal fatto che qui potete mettere, sapete, di quelle piccole cucine. Fra l'altro c'è anche la possibilità con un piccolissimo sovrapprezzo di avere questa casa interamente arredata. Spaziosa se pensate che è appunto con un tavolo e alcune sedie potete veramente fare la vostra zona living, la vostra zona giorno. Qui invece notiamo il dettaglio, guardate la bellezza di queste assi di legno, come sono colorate, come sono perfettamente restaurate, come riescono a mantenere ovviamente in prospettiva l'umidità che qui non ci sarà mai. Notate, vedete la bellezza di questa casa, i dettagli dal battiscopa a tutto quel che comunque concerne la casa, il marmo. Vediamo qui interno, vediamo la zona notte che è l'unica camera da letto. Ho detto, la casa è approssimativamente 60 metri quadri, ma il prezzo è eccezionale e anche il fatto che può essere un buon investimento perché potete veramente anche pensare a una forma di affitto, anche come casa vacanza per esempio, perché la zona è uditore a Palermo ma è una zona molto bella, molto servita, con prezzi assolutamente contenuti. Ecco ancora una volta il dettaglio del tetto, delle trave a soffitto che sono sempre, fanno la bellezza, fanno la differenza, fanno anche il fatto che mantengono l'umidità. Da questa parte abbiamo quest'altra finestra, non ci sono balconi in questa casa, ma d'altra parte è questa la tipologia di casa, è veramente come si suol dire il gioco che vale la candela, è l'investimento giusto con il prezzo giusto. Esploriamo ancora la comodità di questa casa perché non è finita, abbiamo oltre al bagno che vi mostro fra un attimo questa lavanderia e la lavanderia si può sfruttare veramente in altezza perché potete anche per esempio fare un gioco di coperture in modo che abbiate il vostro armadio lassù, proprio dal tetto in legno. E la lavanderia che è sempre una comodità e non toglie spazio invece a questo bagno che è piuttosto grande, è l'unico bagno della casa ma è un bagno veramente fatto con tutti i criteri giusti per quel che riguarda una casa di un certo livello. Guardate che bello questo bagno, guardate la bellezza del colore delle mattonelle, la comodità della doccia che in questo momento non è coperta ma potreste assolutamente coprire e farne una cabina doccia, insomma veramente, vi ripeto è un ottimo investimento, ancora una volta vi offriamo una casa a un prezzo contenuto che potete sfruttare come volete per starci, per affittarla, per fare quel che vorrete, per la ricezione magari di turisti, asse, siamo in un vicolo molto bello, riparato, quindi insomma con un viceneato diciamo contenuto. Nell'asse fra Viale Michelangelo e Viale Leonardo da Vinci che poi vanno giù, spingono verso il centro della città, insomma un angolo di paradiso in una delle città più belle d'Italia che è Palermo con Restate in Sisili.